In un contesto generale di crisi un dato in controtendenza è quello dell'impresa al femminile che secondo i dati del 2011 cresce dell'1%. Il Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile di Camera di Commercio di Firenze impegnato nel sostegno alle donne che fanno impresa anche quest'anno ha promosso la rassegna cinematografica Donne che impresa. Giovedì 12 luglio saremo a presentare la seconda edizione a ingresso gratuito accompagnate dall'attrice e giornalista Daniela Morozzi in una visione di questo splendido film di Nadine Labachie che ci accompagnerà in un percorso legato al mondo dell'imprenditoria femminile. Abbiamo deciso di fare questa seconda edizione della rassegna perché la rassegna precedente è andata molto bene abbiamo proiettato quattro film che raccontano le storie di donne imprenditrici e ad ogni serata abbiamo avuto un grande riscontro di pubblico e di attenzione da parte dei media. È estremamente importante per noi come donne che imprendono nel Comitato della Camera di Commercio riuscire a porre l'attenzione su questi temi e portarli fuori dalle stanze delle confederazioni che noi rappresentiamo. Quindi la volontà da parte nostra di organizzare questa rassegna è di portare questi temi in mezzo alla gente a diffonderli in un pubblico più vasto possibile. La rassegna è fatta in collaborazione con la Mediateca regionale toscana che si è messa a disposizione dandoci questo splendido spazio e aiutandoci a selezionare dei film che meglio rappresentano la condizione delle donne imprenditrici nel mondo. Quest'anno un'importante apertura l'abbiamo fatta alle donne imprenditrici straniere tant'è che la prima serata sarà dedicata al Libano e quindi alla condizione delle donne imprenditrici libanesi. Nella prima serata avremo il piacere di ospitare due donne sul palco una donna imprenditrice italiana che rappresenta la nomination ovvero Monica Tiozzo e una donna imprenditrice straniera che ci racconterà la sua edissea che parte dalla barca con cui è arrivata in Italia e che finisce con le splendide camicie che lei cusce come artigiana imprenditrice di successo nel nostro territorio. Il Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile nasce nel 1999 da un protocollo d'intesa tra Ministero delle Attività Produttive e Union Camere Nazionali. A Firenze ne fanno parte 13 imprenditrici e una donna nominata dal sindacato. Noi quest'anno come Comitato abbiamo deciso per quello che riguarda la formazione abbiamo messo in campo un workshop per quello che riguarda le reti di impresa. Per quello che riguarda invece l'accesso al credito noi quest'anno abbiamo messo in campo un seminario che parlava appunto di avvicinare le imprese al linguaggio delle banche per incentivare comunque la conoscenza del nostro Comitato questo progetto di nuovo della rassegna cinematografica.